Ringa, buonasera e ben ritrovati in diretta, 22 e 15 in questo momento, dunque 21 e 15 in questo momento devo dirvi un paio di cose in apertura, intanto che l'allerta meteo è seria, molto seria e quindi tra poco vedremo anche alcuni aggiornamenti, si è rialzato il Mose, sono state sollevate in serata le paratoie del mobile del Mose per affrontare un picco di marea che dovrebbe raggiungere i 135-140 cm alle ore 23,50 a largo della bocca di porto del Lido di Venezia. C'è un appello da parte della Protezione Civile del Veneto unitamente a Zaia di considerate le criticità a causa del maltempo che potrebbero verificarsi sul territorio veneto e in particolare sulla viabilità anche locale. La comunicazione rivolta ai sindaci invita a valutare con la massima attenzione anche la chiusura delle scuole per la giornata di domani ed è quello che noi lasciamo qui nel titolo perché probabilmente nella serata, nei prossimi minuti potrebbero arrivare già notizie di questo tipo. Il problema è, saluto Antonio Esposito, Mattia Pizzani in regia, vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile che dà l'allerta rossa sul fronte idrogeologico, nell'Alto Piave, Piave-Piedemontano, l'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, questa è appunto la previsione per questa notte fino alla quasi intera giornata di domani, insomma alle 13.30 di domani. Alcuni danni si registrano già, per esempio nel vicino Frio di Venezia Giulia, forti problematiche nella zona di Udine in particolar modo. Voglio vedere se vi trovo un altro bollettino, in realtà è questo poi dal sito della Protezione Civile che campeggia in questo momento ed è ancora così, dà allerta rossa perché c'è rischio idrogeologico, lo vedete appunto in questa immagine, e rischio idraulico nel resto della regione, cioè forti piogge e la preoccupazione, lo diciamo, è seria in queste ore. Vi anticipo solo due altre cose, nella seconda parte, tra meno di un'ora affronteremo ancora una volta il tema del bus di Mestre con una Photoshop che mostreremo e commenteremo insieme perché è bene guardarla senza giudicare, vedremo tutte le opzioni, ma guardare quell'immagine delle condizioni del bus precipitato a Mestre, avremo con noi Ilaria Marchiori e l'assessore Boraso per l'amministrazione comunale di Venezia. Giro veloce, saluto perché la vedo già collegata Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale, buonasera Camani, ho intravisto, attenzione all'audio che è disabilitato Camani, ho intravisto il capogruppo di Fratelli d'Italia Enox Oranzo, buonasera, sempre in regione, abbiamo tutti i capogruppo stasera, lo speaker della maggioranza Alberto Villanova per la Lega, buonasera. Si collegherà credo Marco Monnet tra poco, ma Tiziana Bolognani da Belluno, ci dà alcuni aggiornamenti anche Tiziana perché molte cose me le hai già scritte, qual è la situazione in questo momento? È una situazione di attesa e se possibile anche con una certa apprezzione, perché il bollettino che la protezione civile regionale ha emesso questo pomeriggio attorno alle 14, certo con quella colorazione rossa manda il nostro pensiero a 5 anni fa e a Baia, è vero, la situazione non sembrerebbe presentarsi esattamente come Baia, ma c'è grande attenzione al punto che ci sono già alcuni comuni in provincia di Belluno che hanno aderito agli inviti della protezione civile regionale, quindi la chiusura delle scuole è già stata attivata e disposta dal sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrini che l'ha comunicato poco fa, la quasi totalità dei comuni bellunesi ha attivato il COC e il comune di Belluno lo ha fatto poco fa, il centro operativo comunale è stato aperto al comando di polizia dove è anche operativa da ore la polizia locale con il gruppo comunale di protezione civile che sta girando con le sue squadre il territorio per rilevare eventuali criticità, la situazione per il momento è sotto controllo però la base più intensa è prevista per le prossime ore. Quello che noi sappiamo è che l'atto provincia di Trediso, quindi Vittorio Veneto, l'ANAS ha chiuso poco fa per maltempo la statale 51 di Alemania e l'ha chiusa a fa d'alto in via provvisoria in considerazione dell'attivazione del sistema di monitoraggio che è installato sul versante della frana enorme che si vede salendo in autostrada in A27 verso Belluno, salendo verso la destra, ecco i sensori hanno registrato il superamento della toglia pluriometrica, si sono accesi i semafori e quindi la statale 51 per il momento è impraticabile perlomeno nel lato della provincia di Trediso. Questo è quello che vi posso dire fino ad ora, non ci sono altre, non c'è altro tipo di segnalazioni la fase più importante dovrebbe scappare dalle 23 in poi, soprattutto la notte che è con questo bollettino che ci dà una situazione di allerta perlomeno fino alla mezzanotte di mercoledì. Allora Tiziana, quindi diciamo di questo appello lanciato alla protezione civile fino ad adesso Val di Zoldo lo ha raccolto, no? Scuola è chiusa domani? Sì, a Val di Zoldo, solo Val di Zoldo perlomeno è il comune che si è premurato di comunicarcelo e non poteva essere altrimenti perché noi conoscevamo perfettamente qual è la situazione del rischio idrogeologico nella vallata Zoldana e ci ricordiamo tutti quella enorme frana che precipitò sulla strada un paio d'anni fa. Tiziana, tu dicevi forte vento poi comunque, no? Sì, c'è forte vento che è segnalato sia verso Fadalto, quindi lato Fadalto, quindi verso l'autostrada, la vallata e anche al Passo San Boldo. Va bene. Forte vento, forti rossi che diventi. In questo momento in città piove a scrosci, certo è elevata, la temperatura fuori fa caldo. Ecco, non è una giornata tipica di fine ottobre e voglio dire la memoria torna in maniera molto agile a cinque anni fa. Esattamente. Allora grazie Tiziana Bolognani collegata da Belluno, ci fossero altri aggiornamenti, ci risentiamo. Certo. Grazie davvero Tiziana. Tra l'altro proprio nel weekend abbiamo trasmesso il nostro documentario in ricordo dei cinque anni da Vaia e si è visto che è forte nella memoria un po' di tutti noi quello che è successo, viene stato anche molto seguito. Prima di iniziare con i temi della sanità, voglio salutare, perché mi dice che è collegato ma non lo vedo Tony, eccolo là, Marco Bonet, caporedattore del Corriere del Veneto. Ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ci sono vari aspetti, vi faccio vedere il sondaggio che abbiamo deciso di dedicare a questo tema, perché è di grande attualità nel dibattito qui in regione, fine vita, secondo voi serve una legge in Veneto, quindi dobbiamo superare di fatto lo Stato, perché come ben sappiamo non c'è una legge nazionale e da tempo si discute qui, come nel vicino Florenza Giulia, di scrivere una propria legge. domani c'è un passaggio importante, adesso ne parleremo, sia lo 0422 1626 691 o finale 0, sentirete segnalare occupato, ma è perché la chiamata è gratuita e anonima, ma ha registrato la vostra preferenza. Alle 22.05, ve lo dico subito, diamo il risultato. Cominciamo dalla manifestazione di Belluno, poi oggi Zai ha annunciato notevoli investimenti nel mondo della sanità, ma così ci avviciniamo a questo tema. Vediamo. la salute non si vende, la salute si difende. Se vogliamo dignità investiamo in sanità. Il nostro è un grido perentorio, più risorse al territorio. Sono alcuni degli slogan scanditi dal corteo che ha animato la manifestazione regionale per la sanità pubblica. Io credo che sia giusto salvaguardare la sanità pubblica, gli ospedali pubblici, perché è un bene fondamentale. Come ha detto anche il Presidente della Repubblica, dobbiamo sicuramente portare avanti la sanità pubblica. Noi abitiamo a Roccapietola, è un problema solamente con la viabilità per la sanità. Veniamo dal Comelico, è una zona molto sacrificata. Prendiamo l'ospedale di Feltre, ad esempio la psichiatria è stata chiusa, la lungodegenza, quindi abbiamo bisogno che la sanità sia pubblica e non privata. Ci sono posti in montagna che non sono serviti da nessun ospedale, c'è gente che deve fare due ore per venire a fare una visita e se sta male veramente rischia di morire perché non ha un ospedale a portata di mano. Noi siamo del Comelico e per andare, farci, levarci un'unghia, dobbiamo andare fino a Belluno, a Treviso e d'inverno con le strade che ci sono e per noi è impossibile continuare così. Per esempio l'ospedale Magalini di Villa Franca, che era diventato Covid nel 2022, comincia ad avere un'emorragia di medici che se ne stanno andando perché vanno altrove e quindi cominciano a chiudersi alcuni reparti. Mia madre ha avuto bisogno e ha avuto grossi problemi con la sanità. In corteo tra le 3 e le 5 mila persone un fiume umano con gente ancora ferma in stazione quando la testa del corteo era ormai in Piazza Duomo. Sindaci con la fascia, associazioni, sindacati, partiti, singole persone, perfino ex medici di base. Io ho fatto il medico per 40 anni, medico di famiglia, quindi conosco i problemi a fondo. Io sono medico, sono pensionato e quindi so com'è la situazione. L'interesse è comune anteposto alle esigenze personali con però un tema ricorrente, quelle liste d'attesa che troppo spesso spingono, almeno chi ce lo può permettere, verso il privato. Faccio volontariato per l'Auser, ma sapete quante persone porto in ospedale, cioè in ambulatori privati e che si lamentano perché non riescono, perché hanno quel grosso problema e a prenotare ci vogliono 6 mesi. Mi è capitato di dover aspettare una visita 7 mesi e mezzo. Per testimoniare il nostro disagio di fronte a servizi che non funzionano, a servizi che rinviano le visite giorno per giorno. Ho qualche difficoltà perché sono in lista d'attesa da troppo. Il mio medico mi ha anche detto guarda che hai fatto le analisi l'anno scorso, se le vuoi te le faccio pagare e quindi non mi pare una cosa giusta insomma. Mi hanno lasciato in lista d'attesa per mesi e mesi. Nel fare una visita medica, una visita specialistica, magari sei costretto se vuoi farla, farla privatamente. Allora come detto dopo voglio sentirvi anche ovviamente sul fine vita, domani c'è un appuntamento in cui Valdegamberi insieme a Nicola Finco della Lega presenteranno qualcosa, poi ci arriveremo e quindi sarà anche dal punto di vista politico significativo. Prima di farvi sentire Zaia, Camani comincio da lei, vi chiedo appunto di essere rapidi perché abbiamo molte cose, però queste interviste le potremmo fare ovunque, i temi in Italia e probabilmente le risposte sono uguali. Oppure c'è una colpa del Veneto secondo lei? Allora intanto sarebbe importante che la politica e chi ha la responsabilità di governare la sanità regionale ascoltasse con attenzione queste parole. Ho letto con un certo disappunto alcune dichiarazioni degli amministratori di Belluno che facevano il processo contro gli amministratori del PD che erano scesi in piazza come se fosse reato di lesa maestà testimoniare un dato di fatto, che è quello che le tante parole che abbiamo sentito oggi ci raccontano e che, lo dico al Presidente Zaia, la gente normale che non vive nell'iperuranio sperimenta quotidianamente sulla propria pelle. L'ellissere attesa troppo lunghe, le prestazioni inadeguate della sanità pubblica, la necessità di ricorrere al privato per alcune visite urgenti, qualora tutte lo possa permettere sul piano economico, sono tutte esperienze che la gente normale vive quotidianamente. A me lascia molto, mi colpisce molto come all'indomani di una manifestazione così importante il Presidente Zaia, anziché cominciare ad affrontare seriamente questi problemi, annunci investimenti peraltro tutti realizzati su fondi nazionali ed europei a macchinari tecnologici. E' proprio, racconta la distonia tra gli occhiali che utilizza il Presidente Zaia per vedere ciò che accade alla gente normale in questa regione e il mondo dei desideri che forse è quello che lui vorrebbe. E' vero che sono risposte o testimonianze che arrivano dal Veneto, da Belluno, ma potrebbero arrivare anche da altre regioni. Se accettiamo però questo, dobbiamo anche dire che il mito dell'eccellenza veneta in sanità è finito sotto i colpi della pandemia e sotto i colpi di un sottofinanziamento che perdura da troppi anni. Allora, risposta di Villanova subito, poi Bonet e Soranzo per questo primo giro così poi, però voglio rispondere all'SMS, notizie di chiusura delle scuole di Gino, noi non ne abbiamo, però ci sentiamo di dire che, vi abbiamo citato il Bassanese, la Pedemontana insomma Veneta e la zona montana sono le più preoccupanti per quanto riguarda questa profonda ondata di maltempo. Poi non so se anche Marco ci può aiutare dalla redazione del Corriere del Veneto e arrivano anche a lui notizie differenti, ecco, quindi quelle sulle aree che eventualmente potrebbero decidere, insomma, poi non sappiamo di più in questo momento. Prego Villanova, d'altronde è stato diramato da poco quel comunicato. Intanto vorrei tranquillizzare la collega Camani che noi abbiamo l'abitudine di ascoltare anche molto attentamente quello che ci dicono le persone normali, prima di tutto. Secondo, la manifestazione di sabato è una manifestazione dove sicuramente quello che è stato detto va ascoltato, quello che abbiamo sentito dire anche nelle vostre interviste, dopodiché chi ha organizzato la manifestazione l'ha fatto in modo più che politico. Sappiamo che è stata una sola sigla sindacale che ha organizzato questa manifestazione, guarda caso la CGL. Cisle e Will non hanno partecipato perché hanno dichiarato che trovano riscontro nelle loro richieste da parte della Regione, da parte dell'assessore Lanzarin che li riceve costantemente. Poi se ci si vuole, diciamo, incancrenire sul fatto che la Regione per forza deve avere delle colpe, e a me dispiace vedere che c'è sempre questo filo di soddisfazione da parte della Camini nel dire che è finita l'eccellenza veneta nella sanità. L'eccellenza veneta persiste nonostante quelle che sono delle difficoltà oggettive. In Italia mancano 50.000 medici, 50.000 medici, di cui 3.500 nel Veneto. La cosa che a me fa preoccupare è il fatto che non è che manchino solo i medici, mancano anche i medici che si iscrivono alle scuole di specializzazione. Ad esempio in alcuni campi come l'anestesia, come la rianimazione, come la medicina d'urgenza, vuol dire che noi non riusciremo a sopperire quelle fasce di medici che mancano, neanche in futuro perché non ci sono ragazzi o ragazze che si laureano in medicina che dopo entrano in queste specialità. Quindi se noi pensiamo che questo sia un problema solo veneto, come sento dire ogni tanto e sinceramente finché lo dice la signora che va in piazza a manifestare, che stiamo andando verso il privato, posso accettarlo ascolto, ma quando lo sento dire da esponenti politici sinceramente mi fa venire la pelle d'oca perché allora andrei a vedere alcune regioni governate dal PD, a vedere che proporzione di privato c'è. Allora per quanto riguarda anche la questione delle visite e delle liste d'attesa, sulle visite urgenti ci siamo messi in pari, sulle visite brevi a 10 giorni anche lì ci siamo messi in pari, purtroppo sulle visite differite o comunque su quelle programmabili c'è un problema. Perché? Perché c'è la carenza di medici, quindi si fa fatica a andare a sopperire a quelle che sono le liste d'attesa che si sono formate anche per colpa della pandemia, ma soprattutto se andiamo a vedere c'è stato un aumento delle prescrizioni, ad esempio sulle risonanze, più 35% in un anno, cosa che va a ingolfare ancora di più una macchina che fa fatica. Ne siamo più che consapevoli e faremo di tutto per cercare di andare a risolvere questo problema. Però bisogna capire che ci sono dei problemi oggettivi sulle quali difficilmente si può intervenire soprattutto nella regione, difficilmente può intervenire. Allora, fermi, fermi. Aspetti Camari, mi fai vedere Tony Zaie cosa ha detto oggi appunto di questi finanziamenti che ha già citato Camari, poi sentiamo Bonet e Soranzo, dai. Siccome si dice che non si fanno investimenti nella sanità, vi ricordo che l'anno scorso, l'anno passato ne abbiamo fatto 371 milioni di euro di investimenti, stavano infrastrutture. Adesso oggi vi diciamo ufficialmente, vi consegniamo anche un dettaglio di questi investimenti su 17 presidi ospedalieri per 437 milioni e 300 mila euro. Da Palazzo Balbi il presidente della regione Luca Zaie annuncia un nuovo piano di investimenti sulla sanità. L'attenzione per il settore in Veneto è massima, dice. La colpa è che pensiamo a lavorare e non a comunicare. I quasi 440 milioni di euro andranno ad adeguamenti infrastrutturali e di ampliamento in 17 ospedali e all'acquisto di una nuova tecnologia basata anche sull'intelligenza artificiale. Tra gli interventi più significativi 58 milioni per la realizzazione dell'Angelino, una nuova struttura vicino all'ospedale dell'Angelo di Mestre che permetterà una maggior distribuzione dell'attività ospedaliera. Le liste d'attesa restano invece un tasto dolente che paga pegno ad un problema strutturale del personale sanitario nel nostro paese. Mancano 3.500 medici in Veneto e 50.000 in Italia. Dall'altro ovviamente c'è un incremento negli anni, di anno in anno, delle prestazioni. Noi 2023 rispetto a 2022, tanto per darvi un dato, abbiamo più 35% risonanze addominali. Ci vogliono medici, ci vogliono 35, 3.500 medici. Se facessero 10 visite al giorno sarebbero 35.000 prestazioni al giorno. Praticamente noi metteremo le liste d'attesa in tre giorni. Le 5.000 persone che hanno manifestato per la sanità a Belluno cosa pensi? Penso che sia un diritto democratico manifestare, però è altrettanto vero che un altro diritto democratico è quello di dire che ci sono i numeri che dimostrano il contrario. Dopodiché io rispetto delle idee di tutti, ma dire che è una sanità dimenticata sapendo quanto abbiamo investito e siamo disposti a dimostrarlo in qualsiasi istante. Sentir dire che abbiamo chiuso ospedali che non abbiamo mai chiuso o altre robe del genere, si figuri. Allora Marco, qual è la tua idea? E poi sentiamo subito il capogruppo di Fratelli Italia, Soranzo. E se per caso hai anche novità che arrivano alla vostra redazione per la chiusura delle scuole, causa meteo. Prego. No, allora sulla chiusura delle scuole siamo sulla stessa linea vostra, nel senso che è arrivata questa comunicazione ad ora piuttosto tarda della protezione civile che in realtà rinvia ai sindaci la decisione sulla chiusura o meno delle scuole. Quindi immagino che i sindaci ci abbiano ricevuto, come noi poco fa, questa comunicazione e adesso debbano assumersi loro la responsabilità se chiudere o meno. Come possano deciderlo e poi comunicarlo alle famiglie prima di domani mattina? Questo non lo so, mi risulta difficile. Dopo per carità molti usano i social network, gireranno con i megafoni nelle strade, non lo so. Al momento comunque non abbiamo evidenza di questo neppure noi. Per quanto riguarda il tema della sanità, io faccio questa riflessione. Che ci siano dei problemi e che siano dei problemi grossi, questo è sotto gli occhi di tutti. Ed è lo stesso Presidente Zaia ad evidenziare quali sono questi problemi. Ormai da diversi anni, non da mesi, da anni, anche lui denuncia le carenze che affliggono il sistema. E diciamo che noi, da un punto di vista prettamente cronachistico, di lavoro di giornale, non c'è giorno in cui non siamo chiamati ad evidenziare qualche stortura in qualunque comparto della sanità. Perché se parliamo di medici, mancano i medici. Se parliamo degli infermieri, parliamo della fuga degli infermieri verso il privato. Se parliamo degli operatori sociosanitari, che sono diventati un elemento importantissimo del sistema sociosanitario veneto. Anche lì denunciamo carenze di tutti i tipi. C'è il tema degli stipendi che sono troppo bassi. C'è il tema delle specializzazioni a cui accennava il capogruppo Villanova. Cito solo questo caso per il tutto. Dopo anni in cui abbiamo lamentato la mancanza di borse di studio, di specializzazione nelle università, adesso assistiamo al fenomeno contrario paradossalmente. Cioè ci sono borse di studio, di specializzazione in eccesso rispetto al numero dei ragazzi che si iscrivono a quelle specialità. Parliamo di fuga verso il privato, che paga molto meglio e ormai sono tantissimi cittadini, quelli che se lo possono permettere, che si stanno organizzando con assicurazioni sulla falsariga del sistema americano. Sono molte le aziende che inseriscono questo tipo di welfare all'interno dei loro contratti. Cioè cercano di attrarre lavoratori affiancando allo stipendio normale anche delle assicurazioni sanitarie per cui poi se tu vuoi andare nel privato comunque l'azienda ti copre in tutto e in parte la spesa che vai a sostenere nel privato. Queste sono tutte cose che raccontiamo ogni giorno e che mi pare che ormai sia da destra che da sinistra ci siano unanimemente riconosciute. L'indagine su come si è arrivati a questo punto è complicata perché in realtà si stratifica nel tempo. Sono stati commessi errori diciamo in molti anni, non è che è colpa di uno soltanto e a molti livelli. Evidentemente qualcosa è stato sbagliato nella programmazione del fabbisogno di medici, ad esempio uno per tutti e probabilmente anche nella pianificazione delle ritribuzioni di questi medici perché se oggi sono i meno pagati d'Europa e se diciamo così assistiamo a vere e proprie e vado a concludere distorsioni del sistema per cui noi abbiamo medici che si licenziano dal sistema sanitario pubblico per poi tornare a lavorare negli stessi ospedali pubblici come gettonisti, cioè pagati a turno come medici private con un esborso per le usle allucinante perché poi quando tu paghi questi turnisti abbiamo letto di turni notturni che si protraggono magari nelle 24 ore che arrivano a essere pagati anche 1000 euro diciamo a fronte di stipendi di medici che sono nel pubblico di 3400-3500 euro mensili è chiaro che siamo ormai a prenderli un terzo in 24 ore di fatto ed è un costo maggiore per la collettività. Allora Soranzo con lei e con lei ricomincerò dopo la pubblicità sul tema fine vita anche, prego. No però fammi rispondere su questa cosa della sanità. Arrivo arrivo, va bene Camani, intanto finiamo il giro. Prego Soranzo. Mi sentite? Sì, prego. Io credo che va chiarito un punto. Uno, noi siamo convintissimi, abbiamo l'idea chiare sul fatto che abbiamo fatto anche pressioni nel corso di quest'anno che si deve evitare in modo assoluto che le persone per vari motivi cominciano a non curarsi più anche di carattere economico perché questo sarebbe il fallimento totale per noi. Il fatto che le persone si stiano rivolgendo o si rivolte in questi mesi post pandemia al privato è vero, che ci siano state delle grosse difficoltà è vero, che ce ne siano ancora è vero, ma altrettanto vero è anche che si sta lavorando per riportare a una risposta di un sistema sanitario che deve essere in equilibrio, quantomeno in equilibrio tra pubblico e privato, tendenzialmente una prevalenza pubblica rispetto a quella privata, ma che in una fase come questa che deve dare le risposte, per quanto riguarda noi il nostro gruppo è certo una cosa. Uno, che le risposte vanno date in qualsiasi forma e modo in questo momento per recuperare e rimettere in equilibrio le prestazioni. Due, contemporaneamente lavorare per risolvere i fallimenti di cui parlava qualcuno prima di me, da Bonnet a poi anche a qualcun altro. Non sono d'accordo sul fatto che non ci siano i responsabili, perché da dati, non sono io a dirlo, ma si trova anche online, dappertutto, su internet, dove volete, sono anche dati del Ministero, i tagli che sono stati dal 2010-2011 fino al 2019 vanno dai 25 ai 37 miliardi. Quel governo Meloni, dopo che si è ovviamente evidenziato un grosso problema, ha stanziato il, sapete, diversi miliardi, non si contano 3 più 4 miliardi per rinnovare sicuramente i contratti in ambito sanitario, per di fatto accelerare dalle risorse alle regioni, per le liste d'attesa e anche per programmare le assunzioni per tutti quegli investimenti che anche il Presidente Zaia citava, perché poi nella programmazione dei 4 miliardi successivi ci sono tutte le risorse per riprogrammare l'assunzione di figure oggi mancanti, in tutti quelli che sono le figure intermedie del sistema sanitario che dovremmo vederlo nel 2025-2026. La cosa che oggi però deve essere chiara è che è vero, dobbiamo migliorare ancora, dobbiamo accelerare, anche nell'ultima relazione di bilancio sanno i colleghi che la Giunta ha proposto nella variazione e l'attenzione dell'Aula a nuove risorse anche nel prossimo mese nella variazione di bilancio che abbiamo in approvazione e poi se posso aggiungere c'è un dato che secondo me va evidenziato, l'ha detto il collega Villanova e non è normale rispetto al passato due elementi, l'ha detto Bonet sul fatto che ci siano più borse di studio rispetto ai corsisti, la verità è che non ci sono corsisti rispetto all'offerta dei corsi di studio, ossia per molte figure nel sistema sociosanitario, oggi sanitario domani, molti non approcciano più a questa professione, dall'osso all'infermiere anche alla medicina e dall'altro se posso dire concludo c'è questo nuovo modello di fatto di procedere a prestazioni di accertamento come diceva più del 35% sulle risonanze piuttosto che anche TAC eccetera di prestazione che i medici anziché svolgere come una volta la propria professione, individuare la diagnosi e fare gli accertamenti, oggi si fa un check up completo e c'è un intrasamento delle prestazioni, anche questo è un elemento nuovo. Paolo, fermi lì, sì senz'altro, poi magari post pandemia, poi non vorrei che diventasse una colpa nostra diciamo perché c'è un'attenzione alla salute, ma non per lei, perché diciamo ce la sentiamo ripetere, sì ce la sentiamo ripetere, sicuramente c'è un medico eccessivamente solerte, vabbè, allora fermi lì, Camani, ricomincio con lei dopo la pubblicità. Non si possono scrivere tutti gli accertamenti per vedere qualcosa se non già e dopo visitare un paziente, prima si visita il paziente e poi si fanno gli accertamenti normalmente. Ah vabbè, questo è, allora aspetti Camani, con lei così avrà tutto il tempo dopo la pubblicità perché almeno una me la devo togliere diciamo dai, e ricomincio da lei, a tra poco. Allora dai, una pubblicità ce la siamo tolta, poi un'altra alle 22 e poi vi ricordo alla 22.10 la seconda parte dedicata alle novità sul bus di Mestre. Camani, toccava a lei e poi voglio introdurre il tema del fine vita partendo proprio da Enox Oranzo perché feci vedere un suo post di qualche settimana fa ormai proprio qui a Ring. Prego Camani. Ma molto rapidamente, intanto dico al collega Villanova non è che deve rassicurare me perché sembra sempre che sia l'opposizione brutta e cattiva che critica a caso l'amministrazione regionale. Ci sono migliaia di persone che vanno in piazza e altrettante migliaia che in piazza non ci vanno che non riescono ad accedere al servizio sanitario regionale. Non deve rassicurare me, deve vedere quel problema che non vuol dire è tutta colpa di zaia, vuol dire faccio qualcosa per risolverlo. E allora tre cose al volo. È inutile lamentarsi della carenza del personale medico se la regione del Veneto ha bloccato l'assunzione di tutti i vincitori del concorso e l'ha fatto tre mesi fa e ci sono persone che hanno vinto il concorso e potrebbero entrare in ruolo. Le assunzioni sono bloccate di decreto del direttore Annecchiarico numero 76 del 2023. Due, non potete dire che non è colpa della sanità veneta se non siamo in grado di erogare le prestazioni perché invece è colpa dei medici di medicina generale che prescrivono troppe visite. Ma questo è un prendere in giro la gente. Vi informo che la popolazione italiana e veneta sta invecchiando e che avrà sempre più bisogno di cura perché il bisogno di salute è un bisogno fisiologicamente destinato a crescere di fronte ad una società che invecchia e quindi presupporrebbe un aumento costante delle risorse. Tre, Soranzo, Soranzo, basta con sta storia che è colpa dei governi precedenti. Lo stanziamento in sanità che sta predisponendo con la legge di bilancio il governo della tua amata Giorgia Meloni è uno, il rapporto al PIL, dei più bassi della storia degli ultimi trent'anni, il 6,1% del PIL. Lo dicono tutti. La fondazione Gimbe che non è certo un'alcova di estremisti di sinistra dice che con questi stanziamenti di bilancio la sanità pubblica in Veneto e in Italia è destinata al collasso. Ma di cosa state parlando? Aspetti, aspetti. Io vi chiedo quando finirete di fare propaganda e comincerete seriamente con onestà ad occuparvi dei problemi delle persone, dei bisogni materiali, dei bisogni tipi. Va bene, replicami la nuova e poi riparto da Soranzo. Io non accetto minimamente che mi si dica che la regione Veneto e noi dell'amministrazione di Luca Zaia non si usi la serietà e l'onestà per gestire la sanità in Veneto. Ma mi hai detto che è colpa dei medici di base che non hanno presenzioni di nuova? Guarda, puoi farle finché vuoi. Ma che la nostra amministrazione non abbia serietà nell'affrontare i problemi che riguardano la salute dei venti è qualcosa che ti rimando veramente molto tranquillamente. Perché vedi, quando ti ho ascoltato a Camani, sta un attimo tranquillo. Ma io non ho affeso, non mi stendi. Allora, prima accusi, prima accusi e dopo non vuoi sentire la risposta. Allora, mancano i medici, mancano i medici. Continuate a dire che è colpa della regione se mancano i medici. Allora, i medici mancano perché è stata sbagliata la programmazione, perché gli specialisti, i medici specialistici, i numeri che riguardano i medici specialisti, la regione non può intervenire e non ha mai potuto intervenire per la mancanza di quei medici. Per quello che riguarda i medici di base, la regione poteva intervenire solo in maniera residuale, perché i numeri venivano dati dal Ministero della Ricerca e dal Ministero della Salute. Questo non è una bugia, Camani, perché il numero degli specializzanti, delle borse di studio, chi lo decide? Non lo decide la regione, non lo state continuando a raccontare, state continuando a raccontare frottole. Perché i numeri degli specialisti, le decide il Ministero della Ricerca e ti posso dire che io sono stato specializzando e forse un pochettino queste robe le conosco anche. Perché dimmi te, se mancano cardiologi è colpa della regione, se mancano chirurghi è colpa della regione, se mancano anestesisti è colpa della regione. Camani aspetti che non si capisce niente se no. No, non è colpa della regione, perché i numeri delle borse di studio non le ha mai fatte il Veneto. poteva farne in maniera residuale solo per i medici di base. State continuando a raccontare frottole e noi i cittadini li ascoltiamo più che volentieri e ci spingono a fare sempre meglio. Ci spingono a fare sempre meglio. Allora, fermi un attimo, fermi un attimo. Allora, fermo, fermo, no. Camani, perché lei dice sì e lui dice no? Dai, però in dieci secondi perché altrimenti non riesco a far fare agli altri. Allora, io ho fatto una domanda. Sì, i medici, diciamo, spedalieri hanno fatto, l'azienda Zero ha fatto un bando, un concorso, ci sono risultati dei vincitori e non sono stati assunti. Perché? Domanda numero uno. Domanda numero due. I medici di medicina generale accedono al corso di formazione regionale. Il numero di borse di studio è stabilito in accordo tra Stato e regione. Come mai la regione del Veneto è la regione che negli ultimi sette anni ha bandito meno borse di formazione per i medici di medicina generale? Risposta di una nuova, poi andiamo sul ranzo. Vuoi dirvi che il governo ha fatto apposta a darne 300 alla Toscana e 76 al Veneto? Allora, i contratti per i medici specialisti sono stati fatti, sono stati firmati e è stato posticipato all'inizio dell'attività lavorativa per non sforare il budget di spesa. Questa è la questione, ma i contratti sono stati firmati. E la Camani lo sa, i contratti sono stati firmati, lei stava dicendo una bugia, non è vero che non sono stati firmati i contratti. Ma non sono in corsia, fino al primo di gennaio, ottobre, novembre, dicembre, tre mesi, fermi. Ma non importa, non sono in corsia, non lavorano. L'accordo che viene fatto tra la Regione e lo Stato è su indicazione dello Stato, del Ministero della Ricerca e del Ministero dell'Assolute, che ha sempre dato il numero delle borse di studi per i medici di base, dove la Regione poteva intervenire per una parte residuale. quindi Camani, state continuando a raccontare Frottole. Va bene, fermi. Sor Anzo, va bene, se voleva replicare per la parte che la riguardava, se no io voglio capire la sua idea, che a me sembra chiara, sul fronte del disegno di fine vita. e le aggiungo che domani, ma immagino voi lo sappiate, ora l'ho perso, Val de Gamberi insieme a Nicola Finco presenterà una propria proposta, una loro proposta immagino. Presenterà nel progetto di legge regionale 222 disciplina regionale per la promozione delle cure palliative e dell'assistenza sanitaria alle persone affette da malattia terminale o inguaribile, di vieto di eutanasia omissiva e commissiva a istituzione di apposito albo per i caregiver, domani mattina appunto alle 12.30. Come affronterete la questione? Allora direttore, se posso, io non entro perché sono abituato agli interventi della collega Camani, che comunque rispetto, io capisco che fa male quando dico che dal 2010-2019 c'è una grande proponderanza di governi che non sono certamente i fratelli d'Italia, dà fastidio il taglio e come tutti i buoni cittadini sanno che quando si fanno i dalli demolire si fa presto, costruire ci si mette tanta fatica e tanto tempo. Il sistema è stato bombardato con una politica sbagliata di tagli, anni dove c'era la convinzione che il modello dell'austerity, del taglio, della spesa, che abbiamo visto in primis la sanità, con chiusure di ospedali, punti anche di sanità intermedia, è stato un modello sbagliato e poi ha visto che il motivo era una mancanza di risorse, non si è fatto neanche la programmazione perché di fatto si tagliava la spesa della sanità, quindi pensare che ci fosse una programmazione per nuova assunzione o sostituzione di chi di fatto doveva cessare, non vedeva allora che cessassero, andassero in pensione perché si doveva tagliare la spesa pubblica, tra cui la sanità, questo è quello che è avvenuto nel corso degli ultimi 10-12 anni, quel modello là è fallito perché poi col Covid tutti quei soldi si sono trovati, anzi adesso stiamo correndo per riformare le persone, però le persone non si riformano dalla sera alla mattina e abbiamo poi una nuova novità, che l'approccio a questa professione per vari motivi, in questo caso il servizio pubblico è in difficoltà perché abbiamo i privati che offrono stipendi migliori, un'organizzazione di lavoro migliore e un servizio pubblico post-Covid, quindi adesso siccome noi siamo chiamati a dare delle risposte, ha ragione credo il collega Villanova di non accettare la polemica, è facile dire a chi il PD fino a qualche settimana fa criticava il governo che avrebbe messo un euro sulla sanità e poi la manovra prevede 7 miliardi e quindi dà prova di non solo intervenire immediatamente, per quello che può, ma anche pensare ai prossimi anni anche per le strutture di investimenti che sono finanziati col PNRR che sono note da diversi anni e questa cosa che non era stata prevista da nessun governo precedente e che invece se ne sta facendo carico il governo Meloni, però questo poi darà fastidio, fa sorridere, a me invece dà fastidio sorridere perché i PNRR non era visto dai governi precedenti, l'avete tagliato, c'è una risposta chiedo scusa, l'educazione è il pilastro di una buona civiltà e i Veneti credo che lo siano, collega Camani, quindi io sono stato in silenzio, lei abbia la buona di ascoltare, l'altra cosa che va a dire è che però è anche vero che nonostante abbiamo tante difficoltà e tanto da recuperare, perché è vero quello che dicono i cittadini, abbiamo migliorato negli ultimi otto mesi con grosso lavoro, dobbiamo fare ancora molto, però è anche vero che, attenzione, il Veneto viene riconosciuto ancora da tantissimi cittadini che rispetto ad altre realtà, questo non vuol dire che essere i migliori di altre situazioni ci deve bastare, anzi dobbiamo completamente cambiare marcia e accelerare per tornare all'altezza delle richieste, però rispetto ad altre realtà anche i Veneti sanno che, se no non ci sarebbero tante persone che vengono e che lo affermano in modo chiaro. Allora aspetti lì, mi fai vedere il sondaggio Tony, Marco con te cerchiamo di comprendere perché non so che passaggio potrebbe essere quello di domani con Valdegamberi, se ha secondo te un significato politico, mentre appunto c'è una proposta di iniziativa popolare sul fronte di una legge per il fine vita in regione, intanto vi dico sono più di 1600-1700 le telefonate al sondaggio del quale daremo risultato tra poco. Qual è la situazione secondo te e cosa accade domani? Ma allora, è una situazione politica abbastanza delicata perché, come sappiamo, breve riassunto per chi si è perso le puntate precedenti, in Consiglio regionale c'è una legge di iniziativa popolare che è capitanata da Marco Cappato che ormai è noto all'opinione pubblica per l'attività che svolge nell'ambito dell'Associazione Luca Coscioni sui temi dell'eutanasia, del fine vita, del suicidio medicalmente assistito, hanno raccolto, vado a memoria, mi pare 5.000 firme, comunque insomma parecchie, hanno depositato questo progetto di legge in Consiglio regionale e questo progetto di legge dovrà essere discusso perché come è stato, diciamo così, svelato in un fuorionda dal Presidente del Consiglio regionale, Ciambette, che ne parlava all'orecchio del Presidente della Regione, Luca Zaia, nonostante, diciamo così, il progetto di legge sia stato passato ai raggi X, non è stato trovato nessun tipo di errore formale che potesse giustificarne, diciamo così, la cestinatura. Il progetto di legge dovrà quindi essere discusso ed è un progetto di legge che crea qualche problema all'interno della maggioranza che non ha, diciamo così, una sensibilità univoca su questo argomento. Ci sono alcuni consiglieri di maggioranza che sono favorevoli e il primo di questi è proprio Luca Zaia, il Presidente della Regione, che su questi temi, diciamo, dei diritti civili e del fine vita ultimamente sta assumendo posizioni, anzi non ultimamente, diciamo da sempre, ha posizioni di matrice abbastanza progressista e invece la parte più conservatrice della maggioranza che, insomma, si ritrova sia in consiglieri della Lega che di Fratelli d'Italia, ma penso che poi Soranza espliciterà meglio questa sensibilità, mentre mi pare che il capogruppo Villanova sia più ascrivibile, diciamo così, all'area di Zaia e quindi come si finirà una volta che si arriverà al voto dell'Aula non è chiaro perché non si capisce bene se ci sono i numeri per approvare questa legge oppure no. Domani alcuni consiglieri che, diciamo, fanno riferimento a quest'ala più conservatrice contraria a questo progetto di legge, tra cui c'è Nicola Finco della Lega, della Lega che è anche il Vice Presidente del Consiglio regionale e dell'Alex Capogruppo, quindi insomma non è proprio l'ultimo arrivato tra i consiglieri regionali, presenterà un progetto di legge che evidentemente per contenuti e per tempistica, perché lo presentano domani che è il giorno in cui si comincia in Commissione Sanità a parlare dell'altro progetto di legge, presenteranno una serie di norme che vanno evidentemente nella direzione opposta. Finisco facendo notare questo, che purtroppo siamo di fronte all'ennesimo pasticcio un po' all'italiana, nel senso che se le regioni sono chiamate a legiferare in una materia che evidentemente sarebbe di carattere nazionale, sulla base di un progetto di legge fatto perché lo vogliono dei cittadini che si smuovono e vanno in gazebo a firmare, è perché in Italia non c'è una legge su questo, il Parlamento non è ancora stato in grado di legiferare in una maniera compiuta su un tema delicatissimo e che evidentemente sta a cuore della popolazione e si va avanti in questo modo qua, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale. Esattamente, bravissimo, sulla scia di una sentenza della Corte Costituzionale, quindi in un modo del tutto anomalo, che diciamo così, secondo me non fa molto onore al Parlamento. Allora, così scrive, l'avevo fatto vedere quel post nel momento in cui questo tema ormai era emerso, Eronc Soranzo, e da lui partiamo dopo la pubblicità, Soranzo Camane Villanova. Nell'ordinamento giuridico italiano esiste chiaramente la sussistenza di un diritto alla vita, ma non è invece altrettanto possibile affermare con la stessa certezza l'esistenza di un diritto alla morte. Da Soranzo partiamo dopo la pubblicità, tra poco. Soranzo, allora comincio da lei. Al sondaggio di questa sera cosa risponderebbe? Quello che siamo convintamente è da tempo a esprimere con chiarezza e determinazione. Noi siamo convinti che, quanto ho scritto anche nel posto lo confermo, che quello che oggi si propone ai consigli regionali sia un pressing psicologico che si vuole fare tramite le alue regionali, i parlamenti regionali e il governo centrale, che non si possa decidere della vita delle persone con una sentenza della Corte Costituzionale. E aggiungo che si deve domandare se tutto quello che stiamo facendo per accompagnare queste persone in un momento difficile, in un momento molto difficile di sofferenza sia del paziente che delle famiglie, sia stato fatto proprio tutto, si possa fare ancora molto. Noi pensiamo che si possa fare ancora molto, che la vita sia sacra e poi, per entrare poi nel main, che non dovrebbe neanche essere quindi di competenza regionale oggi all'attenzione del posto regionale, perché se, proprio come diceva Bonet, se si deve trattare un argomento di questo tema di competenza nazionale, proprio perché ci sia una legge che garantisca la medesima situazione in tutto il territorio nazionale e non con differenza da regione a regioni, perché sarebbe un grave davvero guaio, un pasticcio, su un tema così delicato, così complesso, ma soprattutto importante. Aggiungo inoltre poi che, come ormai molti hanno potuto capire, secondo noi, e non solo secondo noi, ma anche pareri autorevoli, la legge regionale iniziativa popolare proposta al Consiglio regionale oggi e all'attenzione domani della Commissione Sanità, presenta almeno quattro punti di incostituzionalità. Uno, per esempio, l'obbligo di questa azione sanitaria a supportare il suicidio, contrasta con la competenza, che di fatto assincisce la Corte Costituzionale, contrasta con la Commissione per i diritti umani europea e anche la Costituzione stessa nell'articolo 19. Anche l'obbligo della prestazione sanitaria che questa proposta introduce, introduce di fatto un nuovo LEA, che è una competenza esclusivamente di carattere statale, quindi anche questa è una cosa che di fatto avviene secondo me dopo e tanti altri motivi ancora. Cioè ci sono delle LEA incostituzionali in questa proposta di LEA? Esattamente, in modo certo e chiaro. Allora, Kamani. Ma guardi, io credo che su questa proposta di legge si sia volutamente fatta una divisione diciamo dell'universo in due parti e credo sia l'approccio più sbagliato col quale noi ci dobbiamo avvicinare a questioni così delicate. Ci sono due piani della discussione. Il primo piano è quello che riguarda la questione politica, trattino etica, che riguarda il tema del fine vita. Io invito a leggere con attenzione chi ci ascolta la sentenza della Corte, la quale sentenza non aggiunge nulla rispetto a quanto già esiste nella legge nazionale. Esiste già, ed è del 2017, la conosco abbastanza bene, una legge che definisce le modalità del fine vita e che prevede che una persona in virtù dell'articolo 2 della Costituzione, che è quello che garantisce alcuni diritti inviolabili della persona, dell'articolo 13 che tutela la libertà personale, dicevo c'è una legge del 2017 che autorizza già una persona in determinate condizioni a poter chiedere l'interruzione di alcuni presidi sanitari che la mantengono in vita e ad ottenere la sedazione profonda come accompagnamento alla morte. La sentenza della Corte non dice nulla in più di quello che è già scritto nella legge, ma si limita semplicemente a circoscrivere l'ipotesi di reato istigazione al suicidio e distinguendo tra chi istiga al suicidio, cioè contribuisce effettivamente a far sviluppare e maturare la decisione di togliersi la vita di una persona con la fattispecie di chi aiuta al compimento della messa in atto della fine della propria vita di una persona che ha già pienamente, in maniera pienamente consapevole, determinato a fare questo. Quindi c'è un piano di discussione che riguarda il tema etico e politico e poi c'è una questione tecnica e legislativa che è quella che ci è capitata addosso a livello regionale. Ora dico semplicemente due cose, anche perché alcune delle considerazioni tecniche che ha fatto Soranzo in parte le condivido anche, spero che da domani ci sia anche occasione di parlarne in maniera più approfondita durante la Commissione. Però un tema su cui ragione Soranzo lo dico sapendo esattamente quanto pesa quello che sto dicendo e cioè che questo è un argomento su cui dovrebbe legiferare lo Stato. Quindi dico a Soranzo e dico a Villanova che rappresentano i partiti che oggi sono di maggioranza in Parlamento. La facciamo questa legge. Perché una legge nazionale su questo tema esiste. Nella legislatura precedente era stata approvata alla Camera e fermata al Senato. Approvata alla Camera con il voto favorevole del PD e contrario della Lega di Salvini e di Fratelli d'Italia. Riprendiamo in mano quella legge perché dire che non si può fare a livello regionale e non fare niente con i numeri che hanno per farlo a Roma. A Roma. Fermali, fermali, fermali. Allora Villanova siamo già fuori di due minuti. Villanova e poi sono scenari con Marco Bonnet. Prego. Io concordo sul fatto che la legge dovrebbe essere fatta a livello nazionale dopodiché io intervengo su quello che riguarda la legge che arriva in regione, in consiglio regionale. Allora non sono... Quella di domani diciamo... Quella che va in consiglio, in commissione domani. No, non quella che arriverà all'idea. No, quella vedremo. Valdegamberi. Però io credo... Non sono un avvocato, non sono un legislatore, non mi occupo di queste leggi, però la questione secondo me è importante. Siccome si tratta di un tema etico, un tema che riguarda la coscienza di ognuno di noi, anche dei consiglieri che andranno a votare, io prima di tutto la cosa che mi sarei aspettato è di vedere un approccio molto rispettoso di chi soffre. Perché ho visto troppe dichiarazioni sui giornali, anche dichiarazioni che secondo me vanno a forviare quello che è il vero fulcro di questa legge. Perché ad esempio una cosa di cui si parla o si parla poco o si parla male è il fatto che qui nessuno obbliga, nessuno con questa legge a iniziare un percorso di fine vita. È una scelta consapevole del malato. È una scelta consapevole che solo il malato può fare. Quindi non si tratta di eutanasia che viene imposta al malato, perché sui giornali l'abbiamo letto anche in questi giorni ed è qualcosa di inaccettabile e questo va ricordato. Dopodiché per la mia esperienza personale, formativa e anche lavorativa di quando lavoravo in ospedale, io sono favorevole a questa legge, però posso dire che ho grande rispetto anche per chi la pensa in maniera diversa dalla mia, perché credo che su un tema come questo non ci sia il giusto e lo sbagliato, ma ci sia solo la questione di intervenire affinché chi soffre possa avere una via d'uscita che sia dignitosa dalla malattia e dal dolore. Che possa scegliere o meno. Nessuno obbliga a prendere una decisione. Il risultato del sondaggio, 1800 telefonate, mi fai vedere il risultato e con Marco vediamo un po' gli scenari da domani in poi. Cosa dicono i nostri telespettatori? Serve. Sì per l'86,9%, stragrande maggioranza. Vai Marco. Diciamo che ancora una volta Zaia che si è intestato a questa battaglia si dimostra un attento conoscitore dell'umore dei Veneti, del popolo di questa terra, nel senso che è evidente che il risultato del sondaggio parlava solo. Dal punto di vista politico io non lo so che cosa accadrà quando la legge arriverà in aula, se si salderà una maggioranza trasversale che vada all'opposizione, che mi pare tutta indicativamente a favore del progetto di legge per quanto con gli aggiustamenti di cui magari parlava Camani e quella parte di maggioranza che fa riferimento al Presidente. Non credo onestamente che questa cosa possa scatenare una crisi di maggioranza o creare un caso politico, perché come abbiamo sentito da tutti e tre i capi di gruppo che sono intervenuti questa sera, comunque si tratta di un tema che va ricondotto alla libertà di coscienza e quindi non credo che ne possa nascere un caso politico tale da fare, come pensa qualcuno, addirittura a traballare la maggioranza. Ecco, non mi sembra questo un tema tale da aprire un caso di questo tipo. Va bene, allora... Sì, però va bene, tanto ormai siamo fuori di cinque minuti, dai, flash. Su questo tema, per quello che riguarda il gruppo che guido io, ci sarà assoluta libertà di coscienza e nessun vincolo di maggioranza, proprio perché è un tema etico e quindi ogni consigliere potrà votare come ritiene senza avere nessun vincolo di maggioranza, quindi non ci sarà nessuna crisi di maggioranza, nessuna crisi all'interno del gruppo, perché siamo partiti da subito con l'idea di lasciare libertà di voto ai nostri consiglieri. Va bene, allora voglio ringraziare Vanessa Camani, Marco Bonet, Enox Oranzo e Alberto Villanova. Ora pubblicità e poi torniamo sulla strage del bus di Mestre con un'altra novità e una foto che vi faremo vedere tra poco. Cavalcavia chiuso al traffico per ore, oggi il giorno del superperito, l'ingegner a Migliorino che vediamo proprio lì sul punto in cui la sera del teo tobre il pullman guidato da Rizzotto è precipitato di sotto. Quella di Migliorino, il funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, incaricato dalla Procura, è la perizia più attesa nelle indagini sulla strage del bus. Presenti la PM Laura Cameli, titolare del fascicolo, i periti delle parti civili, i legali e i periti di parte dei tre indagati, l'amministratore delegato della linea, Fiorese, e i due dirigenti del comune, Di Bussolo e Cesaro. Al momento, come ribadito dal procuratore Cherchi, nessun altro è scritto nel registro degli indagati. Per i rilievi e le misurazioni, Migliorino si è avvalso di un drone che è stato fatto sorvolare lungo il tratto da cui è precipitato il bus. Sono stati misurati poi ringhiere e guardrail, soprattutto i 27 punti toccati dal mezzo prima di precipitare. La viabilità sul cavalcavia è stata interrotta dalle 13 alle 16 come da ordinanza comunale. Una volta terminate le analisi sul cavalcavia verso le 16, l'ingegner Migliorino e i vari tecnici si sono spostati a esaminare il bus all'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre, dove era stato portato all'indomani dell'incidente. Qui sono state scattate numerose fotografie. Il 9 novembre è in programma la seconda parte di verifiche. Intanto si attendono anche gli esiti delle varie perizie e dell'autopsia eseguita sul corpo di Rizzotto. I primi accertamenti non hanno riscontrato anomalie, per questo si attendono gli esami più approfonditi eseguiti sul cuore dell'autista quarantenne. Questo video ogni volta che lo vediamo e lo rivediamo fa davvero impressione. Come cerchiamo di fare ogni settimana, restiamo su quanto avvenuto, su questa tragedia, per cercare di capire, almeno fare il punto di quello che fin qui sappiamo. Innanzitutto ringrazio subito Ilaria Marchiori della nostra redazione di Venezia. Buonasera Ilaria. Buonasera Ferdinando, buonasera anche ai nostri spettatori. Ed è tornato a trovarci l'assessore alle infrastrutture e alla viabilità per il comune di Venezia, Renato Boraso. Grazie ancora, assessore. Allora, sono subito da voi. Voglio solo fare un riepilogo rispetto a quello che avete visto, altro che vedremo nel corso di questa serata, di questa parte di Ring e le cose cui eravamo rimasti. Quindi settimana scorsa hanno detto ci sarebbe stato il sopralluogo, qui l'avete visto nel servizio di Ilaria Marchiori. Due cose però avevamo raccontato in quella definita intervista shock, tra le altre, che ci fosse qualche dubbio, se non meno, sulla formazione all'utilizzo di questi mezzi elettrici in quanto differenti comunque da un bus normale a gasolio, per alcune caratteristiche. E quella frase, Sibillina ma non tanto, sempre di un autista che ricorderete non solo di spalle incappucciato che al microfono di Ilaria Marchiori raccontava alcune cose e ripeto, ce ne sono anche molte altre, però bisogna verificarle in maniera opportuna perché non possiamo dire tutto ciò che è con difficoltà verificabile soprattutto in questa fase perché c'è un'inchiesta in corso e come è doveroso sempre, dobbiamo farlo con rispetto, a maggior ragione della procura, delle vittime, degli indagati e a proposito come sempre l'amministratore delegato Fiorese può tranquillamente, amministratore delegato della linea, essere tra i nostri ospiti invece di farsi riprendere magari da una telecamera così a distanza, concordato o meno da altre trasmissioni. A proposito, qualcuno avrà visto probabilmente la puntata di Report ieri sera che a più di una settimana, da quanto noi abbiamo già detto, punta l'attenzione, lato cavalcavia, ma insomma questo lo diciamo dal 3 ottobre e ne parleremo ancora con l'assessore tra poco, sul tema della formazione. A noi l'autista aveva detto, sue parole, ci hanno illustrato a malapena due o tre bottoni, fatto una prova e poi via. C'è anche il tema di quanto stanno fermi a riposo questi bus che cambiano l'autista, quindi girano parecchio ed è verso un altro aspetto forse interessante nelle nostre puntate le settimane scorse che è quello dello sterzo, avrebbe un comportamento differente questo bus e vi abbiamo mostrato cosa succede a Rasseggiano, non solo in realtà i bus elettrici ma anche altri bus, quindi forse una rotonda della quale è il caso, oggi abbiamo la possibilità di parlarne con l'assessore. Cosa racconta ancora una volta invece Report, tra le novità io vedrei questa almeno, che ci sarebbe un'attenzione particolare che bisogna avere per l'impianto frenante, perché a bordo del mezzo non c'è un libretto di istruzione di questi mezzi se non in cinese, eventualmente si può andare a consultare il sito del Yutong che produce questi bus elettrici, importati tra l'altro da un'azienda della sfera di Fiorese nel nostro paese e che però sono una sezione in francese in cui dice attenzione l'impianto frenante può surriscaldarsi e quindi entrare in funzione un ulteriore blocco sul quale bisogna fare attenzione, non voglio dire nulla di più. Lato inchiesta, scusate ma è giusto secondo me ripilogare un po' di cose, almeno tre filoni, la scatola nera, adesso è stato affidato l'incarico all'ingegner Chemello, quindi analizzare queste riprese ma soprattutto il comportamento del bus, il cavalcavia e avete visto il super esperto, il perito migliorino in azione e poi un'ulteriore verifica post autopsia in particolar modo sul cuore, quindi un altro esperto che è dedicato e particolarmente competente su temi e problemi cardiaci che quindi analizzerà il cuore di Rizzotto, l'autista morto nell'incidente del 3 ottobre insieme a 20 passeggeri. Ora io spero di aver riepilogato rapidamente tutto, poi vedremo altri servizi. Ilaria a te anche per dubbi diciamo ulteriori precisazioni che vuoi fare. Sì allora, innanzitutto visto che se ne sta parlando abbastanza ultimamente, lasciando stare quello che ha riepilogato, è proprio quello che è accaduto in queste ultime settimane, abbiamo visto ovviamente un po' tutti questo servizio di report, quindi a me io vorrei a questo punto entrare nel vivo di una questione insieme all'assessore Boraso che abbiamo qui. Allora innanzitutto due cose, primo di commentare la questione che riguarda quella particolare rotonda di Asseggiano, se non l'ha vista poi gli riproponiamo il servizio così magari può risponderci in maniera più chiara e poi assessore, possiamo provare a rispondere una volta per tutte così, diciamo fughiamo ogni dubbio perché sono stati effettuati prima questi interventi, per quanto riguarda questo ormai famoso rifacimento del cavalcavia di Via Torino, questi 21 milioni, vogliamo spiegare un po' a tutti perché ovviamente il servizio di report... Cioè perché quello prima dell'altro, intendi dire? Esatto, sì, spieghiamolo un po' a tutti perché è ovvio che il servizio di report ha puntato non poco su questa questione, abbiamo visto hanno tentato anche di fermare il sindaco che non ha risposto ma a questo punto ci vi è a lei una risposta chiara. Boraso invece si è mostrato disponibile, devo dire, Boraso invece ha risposto, quindi prego assessore. No, allora io vorrei che ci concentrassimo che le cose sono completamente diverse. una cosa sono stati 20 milioni di finanziamento mise Ministero Sviluppo Economico che è stato concordato che quel cavalcavia nuovo fosse realizzato dai comuni di Venezia. Durante il covid siamo riusciti dopo le stesse trafile burocratiche, progetto preliminare, delibera di giunta, progetto definitivo, delibera di giunta, gara d'appalto e siamo riusciti a iniziare l'opera. È cominciata sotto il profilo progettuale prima, ma attenzione, ripeto, non mescoliamo l'acqua con l'olio, nel senso che quello è un finanziamento del Mise, Ministero Sviluppo Economico, che nasce per realizzare un cavalcavia in quella posizione, per risolvere il nodo di via Torino, quindi il collegamento da e per Venezia verso la terraferma e da e per verso la zona industriale, Fincantieri, Vega, eccetera. Ed è chiaro che è partito. Nel contemporaneità, lo ribadisco, e mezzo, me ne prendo tutte le responsabilità, l'ho già richiamato anche agli organi competenti della Procura della Repubblica, che mi hanno chiesto di informarli dettagliatamente. Cioè lei è stato sedito in Procura, vuole dirci questo? Sì, ho passato un mese. Ho ovviamente comunicato ciò che sapevo come persona informata sui fatti, direttore. Quando sono stato chiamato in Procura? Posso chiederle, Assessore? Non lo dico quando sono stato chiamato, ma dovete capire che dopo il gravissimo incidente del 3 sono stato chiamato a dover spiegare dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti. Noi siamo arrivati a luglio 2015 e già nel 2016, quando qualcuno ci ha detto che quella struttura era in carico alla manutenzione ordinaria della città di Venezia, abbiamo cominciato subito il sindaco e l'amministrazione a occuparsene. Subito. Ed è tutto documentato. Poi la cosa sia aggravata, lo dico in termini tecnici, con la disgrazia del ponte Morandi. Non possiamo dimenticarci quello che è successo il 14 agosto 2018. E allora io stesso lo dico, perché poi c'è stato anche qualche crollo di qualche pezzo di cemento, insomma non solo qua, abbiamo redditato tanti cavalcavia ed è evidente che teniamo sotto controllo. E allora è talmente evidente la cosa, che abbiamo fatto il monitoraggio centimetro per centimetro, li vedete quei piloni, si vedono anche nelle immagini, li vedete quei piloni, eccetera. Questi sono stati monitorati centimetro per centimetro, dopo le vicende del ponte Morandi. Da qui scatta tutta una progettualità prevista per legge, che ci ha portato una gara ad una gara di 6 milioni e 400 mila euro, finalmente vinte e assegnate, di cui i lavori erano già avviati da oltre un mese. La disgrazia è stata talmente incredibile e enorme che siamo entrati, questa cosa si è inserita, questa grazia enorme, mentre io non ci ho dormito, perché voi capite che non è, cioè pensare neanche la cosa più impensabile poteva succedere, che mentre stiamo rimettendo a posto in sicurezza una struttura che ricordo a tutti, Avarino lo ricordo, mi dispiace di questa cosa, non l'ha fatto il Comune di Venezia questo cavalcavia, come gli altri cavalcavia che abbiamo arrivato. E' sempre pensabile, per carità, noi in cuor nostro abbiamo fatto quello che potevamo per arrivare a un'opera pubblica importante. Solo è chiaro, è chiaro, cioè dal 92 in poi ci sono state ben diverse amministrazioni per metterlo in regola. Non è molto chiaro per tutti, no, non è molto chiaro per tutti, non è molto chiaro, lo dico ancora, lo so che sono dipetitivo, ma è anche tempo e ora, siccome ci diciamo che questo cavalcavia non è di proprietà del Comune di Venezia, chi sta facendo le indagini stanno capendo in maniera esattamente dettagliata di chi è la proprietà. E' sempre vero che, per carità, abbiamo trovato una frase su una delibera del commissario Zappalorto, si affida la manutenzione e non voglio togliermi le responsabilità, direttore, non mi voglio sottrarre della responsabilità, però in questo Paese possiamo dire che ci sono dei cavalcavia, ne abbiamo altri due o tre abbastanza delicati, direttore, ma non solo la città di Venezia, penso la città di Verona, penso la città di Padova, penso le altre città, non voglio sottrarmi, però lo dico e noi non ci stiamo sottraendo da nessun punto di vista, che in questi giorni lei ha dato l'escursus di analisi, manco l'elemento però avarino, emerso mi pare mercoledì, che una parte della verità, ed è questa una mia valutazione che lo dico sia dal primo giorno, sta nel mezzo che si è schiantato sotto il cavalcavia. Per carità, è giusto che ci sia il superperito sul Garderei, è giusto che ci sia la superperizia sulla dinamica dell'incidente, è giusto che vadano a verificare se i corsi di formazione, le autorizzazioni di questi mezzi, ma credo che lei sta facendo vedere le immagini, direttore, credo che la verità sia in quel mezzo e quindi mi auguro che presto arrivino anche i periti incaricati dal Tribunale a verificare il mezzo se sussistano dei guasti a quel mezzo. Quello dell'incidente di via Carducci, intende dire? No, io aggiungo tutti e due, sia questo del 3 di ottobre che anche quello che è successo in via Carducci. Allora, aspetta un secondo, perché ha detto tante cose importanti, allora aspetti lì, aspetti lì, e Tony poi vediamo l'altro pezzo perché mi interessa molto una fotografia che Ilaria Marchieri ha messo nel suo servizio l'altro giorno e conclude questo prossimo servizio che vedremo tra poco, ma veramente telegrafico, cioè lei dice non confondiamo quei 20 milioni di euro che riguardano un altro cavalcavia, certo fatto prima ma era un finanziamento mise, quindi un cavalcavia che doveva servire e migliorare il lavoro delle imprese, ecco perché mi sta allo sviluppo economico, cioè non potevo utilizzare quei fondi per sistemare questo cavalcavia. No, mescoliamo l'acqua con l'olio, non si può. Perfetto, fermo lì. Secondo aspetto, non è che abbiamo atteso che arrivassero i fondi PNRR, l'Ital è partito molto prima che sapessimo dell'esistenza del PNRR, no? Cioè, perché arriva con la pandemia. Però, voglio dire, a quel punto non è che si è atteso che si instradasse quel percorso fondi PNRR, quindi rallentasse il rifacimento della manutenzione che è in capo a voi? Abbiamo utilizzato quella voce di bilancio perché era in questo momento la più emergente, altrimenti avremmo utilizzato una voce ordinaria del bilancio. Cioè, addosalmente vi ha concesso una velocizzazione? Abbiamo avuto questa possibilità di accedere ai fondi PNRR del Ministero e abbiamo deciso di accedere subito a quella voce di bilanzamento, tante che il 9 di aprile si fa la gara del 2023 e a fine agosto era già affidata, IVI compreso, il periodo che dobbiamo tenere a punto per evitare che le seconde imprese ricorrono contro quelle che hanno vinto, perché siamo in Italia. Lei come sa, c'è una gara importante di mezzo, abbiamo dovuto aspettare anche il tempo tecnico, però la gara è del 9 di aprile e le posso garantire che a tempo direi che una gara così importante, abbiamo bandito la gara del 9 di aprile, affidata. No, no, ma chiaro, chiaro, chiaro. Cioè, io le davo un titolo, poi Tony veniamo al servizio e sentiamo Ilaria. Cioè, il paradosso è che in realtà, attingendo ai fondi PNRR, probabilmente avete fatto prima l'inizio lavori di questo cavallicavie in crimine. Sì, non è un paradosso. Allora, fermo lì. Il procuratore Cherchi, l'ultimo incontro con la stampa, pochi giorni fa. Che cosa ha detto e guardate il finale di questo servizio? Siamo ancora su piani non chiariti, proprio perché non abbiamo gli esiti delle consulenze. Quindi stiamo cercando, in un momento in cui ancora non c'è questa chiarezza, di scandagliare tutte le possibilità, anche quelle in qualche maniera forse più remote, ma proprio per non trovarci poi in difficoltà sugli esiti, quando avremo gli esiti delle consulenze, perché l'esito di una consulenza naturalmente può influire sull'altra. Si stanno muovendo ancora su più fronti, ipotesi malore, guasto meccanico, guardrail, le indagini della procura di Venezia per far chiarezza su quanto accaduto la sera del 3 ottobre sul cavalcavia superiore di Mestre. Proprio stamane è stato conferito all'ingegner Chemello l'incarico di estrarre e analizzare il disco fisso della scatola nera, dove sono immagazzinate le tre telecamere interne al mezzo. Una con la visuale del conducente, una che riprende il bus da davanti a dietro, una viceversa. Ci aspettiamo di trovare nella scatola nera quello che i momenti immediatamente precedenti e forse anche immediatamente successivi all'impatto. La procura ha disposto ulteriori approfondimenti nell'autopsia dell'autista Rizzotto. Un approfondimento autoptico sul cuore dell'autista. Abbiamo ritenuto anche in questo caso di fare probabilmente una cosa in più, ma siccome poi alcune cose si devono fare subito naturalmente. In attesa di avere un quadro complessivo e quindi faremo un accertamento ulteriore rispetto alla situazione del cuore nominando un perito che sia, un consulente scusate, un consulente particolarmente esperto in tema di valutazione cardiaca. Faremo anche gli accertamenti sul cellulare dell'autista. Attesa poi per l'esito della maxiperizia dell'ingegner Migliorino su guardrailbus da verificare le componenti meccaniche, elettroniche ed elettriche, batterie comprese. Verrà effettuata un'indagine approfondita su sterzo, semiasse anteriore e sistema frenante. Una delle risposte potrebbe proprio trovarsi nella parte mancante dello sterzo, come si vede in queste immagini. Dov'è finito? Cosa può essere accaduto quella sera? A questo potrà rispondere solo il perito. Il prossimo sopralluogo sarà il 9 novembre. Allora, avete visto anche queste foto? Ora Antonio ce le riproporrà, però mi hanno colpito e non poco quando le abbiamo viste per la prima volta con Ilaria Marchiori. Intanto dico che oltre ai 6 bus su 18 tornati in circolazione ce ne sono altri 6, quindi se è a 12 su 18 che sono tornati in circolazione adesso l'assessore ce lo confermerà. Ilaria, perché ci colpiscono? Può essere successo di tutto nell'incidente e quindi quel pezzo mancare punto stop perché ovviamente è stato distrutto dall'impatto stesso perché quello della ruota è rimasta sterzata, mettiamola così, e quindi bloccata. Vai tu Ilaria. Allora, quando ci sono arrivate queste immagini in redazione noi le abbiamo esaminate perché sono arrivate qualche giorno dopo i servizi che erano stati realizzati con questo ex dipendente, questo autista incappucciato che ci aveva raccontato alcune cose di questi mezzi tra cui aveva parlato di anomalie allo sterzo. Qualche giorno dopo, siccome appunto questo servizio non è passato inosservato a molte persone, questo è anche l'altro che riguardava poi a Seggiano perché siamo andati anche a verificare noi sul posto quanto c'era stato detto. Eccolo qua, sì, questo è a Seggiano e ci è stato proprio fatto notare come nel mezzo quell'incidentato che adesso si trova lì all'ex deposito manchi effettivamente una parte dello sterzo nella parte destra dove era cerchiato. Quindi diciamo non apparteneva al semiasse. Ora nessuno di noi è meccanico, dunque le nostre conoscenze non sono approfondite, però è chiaro... Può essere appunto che si sia perso, eccolo qua, si sia perso, ripeto, nell'incidente. Può non significare nulla, però è chiaro. Noi mandiamo in onda un'intervista shock, diciamo, comunque, esclusiva, con questo ex autista che dice, ragazzi, guardate che quello sterzo ha un comportamento diverso. Ecco, mettiamola così, no? Tant'è che a Seggiano devono fare più manovre. Poi, ripeto, anche lì può essere stato un errore dell'autista che non ha preso la curva della rotonda bene, quindi questo dobbiamo sempre dirlo. Però vediamo questa immagine. Vai, vai, Tony, vediamola, vediamo. Manca un montante, almeno così a noi sembra, in questa immagine. Ripeto, può essere perso nell'incidente, però dopo che vedono il tuo servizio ti mandano questa foto, Ilaria. Esattamente, questa foto mi è stata portata in redazione con tanto di spiegazione di quello che abbiamo appena detto e effettivamente noi abbiamo pensato di mostrarla anche ai nostri telespettatori, proprio perché la differenza che si vede qui è notevole. Ora, ribadiamo un'altra volta il concetto perché sia chiaro. Noi non stiamo facendo i tecnici del caso perché tra l'altro poi voglio dire, l'assessore Boraso ha detto ok, non concentriamoci solo sul guardrail, ma ricordiamo che il perito, l'ingegner Migliorino, poi si è arrecato anche dove si trova al bus e lì ha esaminato varie parti del bus, sono state scattate fotografie, girate alcuni video, per cui un approfondimento è stato fatto anche proprio sul mezzo e anche da quello che appunto poi ci è stato riferito, proprio sulla parte dello sterzo l'apparato frenante. Però, Ilaria, non è che è vero che noi lo diciamo e lo diciamo tutte le volte che non siamo tecnici, però quella foto lì te l'ha mandata qualcuno perché qualcun altro di competente l'ha vista. Esattamente, sì. Cioè qualcuno che si intende, non dico meccanico per essere chiari. Ecco, vai. Sì, queste immagini sono state proprio esaminate da una persona che si occupa, cioè da un esperto del settore e non ci sono state mandate a caso perché dopo aver sentito appunto questi servizi, in qualche modo ce l'ha voluta portare perché a suo dire avvalorava la tesi di quanto ci aveva raccontato questo autista. Lasciamola lì questa foto, farla vedere ogni tanto Tony. Allora, assessore, due cose flash che le chiedo adesso. Lei mi ha detto che la chiave potrebbe essere nel bus di Via Carducci. Mi sembra che fino a questo momento Migliorino non andrà a vedere, il super esperto è andato a vedere il bus della tragedia, della strage, ma non andrà a vedere anche questo qui, giusto? Ilaria? Allora, no, non dovrebbe, poi però non è escluso che possa pensare anche di recarsi a vedere questo mezzo. Dipende da quello che in questi giorni lui ha potuto anche visualizzare e approfondire, ovviamente. Va bene, cioè assessore, la prima domanda è perché lei intende la chiave lì? Perché c'è qualcosa che sa... Sulla foto che avete visto credo, credo che sia eloquente. C'è un pezzo che manca completamente, è una ruota che è sterzata di 90 gradi, minimamente scalfita, aggiungo io a mia visuale dalla foto, minimamente scalfita da qualche oggetto, perché se fosse entrato in quel punto il guardrail avremmo trovato una ruota totalmente forata, tagliata, scalfita da un oggetto computer. Fai vedere la foto? Cioè, lei dice, quella foto è eloquente, dice questo lei, se ce la fai vedere Tony, ecco... Aspetti, aspetti, se ci sovrapponiamo purtroppo il suo audio va via e la ruota non è, dico male, bucata, no? No, non è minimamente scalfita dalla visuale che si vede nelle foto, per carità, è evidente che lì manca un pezzo fondamentale di un sistema sterzante ed è giusto, è auspico, ho visto la serietà con cui si sta muovendo il dottor Cherchi, che presto arrivino dei superperiti a periziare questo elemento, questi elementi, perché è evidente, e ricordo a tutti, che in questa parte anteriore e destra, per 40 metri il mezzo colpiva sistematicamente il guardrail e il guardrail non ha ceduto di un millimetro. C'era qualcosa che non funzionava forse nella ruota anteriore e destra, che poi è quella che avete cerchiato bene e che è priva di un elemento fondante del sistema sterzante. Non sono né io, né Lilaria Marchionni, né lei, ma io so che con grande serietà si sta muovendo la procura e so che, e mi auguro, che presto, dopo il superperito sul guardrail, dopo il superperito sulla scatola nera, arrivi presto un superperito su questi mezzi. La gente chiede di conoscere la verità e aggiungo di più, come l'ho già detto, direttore, che si faccia la perizia anche sul secondo incidente, perché è alquanto strano che a sette giorni di distanza poi qualcuno, per carità, se ha preso male lo vedremo, però credo che la verifica sul server e sulla scatola nera sia necessaria anche su questo mezzo. Si è sfiorata la tragedia per poco, perché lì a un metro c'era una fermata allo salinare a Marchionni, potevano esserci 3, 4, 5, 10 persone in sosta. Allora, aspetti, Assessore, Tony, farci rivedere, ti prego la foto ancora una volta e, ripeto, nessuno di noi è un tecnico, ci colpisce, ma uno può immaginare, si è perso nell'incidente, nel colpo, quel braccetto, ecco, lo definisco così, o magari caduto in precedenza, non lo sappiamo, no? Ecco, però vediamo che a sinistra c'è, a destra manca e non la possiamo dirci di più se non commentarla in questa maniera, perché, ripeto, può significare tutto come niente. La seconda cosa è asseggiano, cioè noi abbiamo mostrato un servizio della Marchiori che, come riferito dall'intervista all'autista, ex autista, che non voleva rivelare la sua identità, lì c'è difficoltà a girare. Eccole qua, nelle immagini proprio girate da Elena Marchiori e Anna Maria Parisi, che alcuni riescono a affrontare tranquillamente la rotonda, altri come questo, ed è a gasolio questo Ilaria, giusto? Sì, 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 questo qui sì. È a CTV? Sì. Direttore, posso parlarci? Prego, assessore, qui cosa sapete? Conoscenza, come in tante altre parti della città, qui c'è un punto stretto, c'è una piccola rotatoria davanti alla scuola, siccome questa linea bus, la 10, serve ovviamente un territorio che è quello di asseggiano, ma è strategica perché c'è anche una scuola elementare proprio dove si gira il bus in asseggiano. sappiamo da anni, insomma, questo è un problema che esiste mai da 20 anni, questa rotatoria molto stretta, tant'è che adesso corriamo i ripari e nel 2024 avremo finalmente un'area a parcheggio a fianco a quella rotatoria, molto più ampia, e una nuova ciclabile che metterà in sicurezza tutta la via asseggiano. Io non sono in grado di giudicare, direttore, se la manovra all'interno di un autobus elettrico di tipo cinese nella frenata e nello sterzante sia molto più difficoltosa che, per carità, non sono proprio guardi, io posso però testimoniare, direttore, che abbiamo 30 autobus elettrici a Lido e Pellestrina, dove le manovre non sono certamente semplici, perché lei conosce Lido e anche Pellestrina, in tre anni non abbiamo mai avuto problemi di natura e di difficoltà e posso garantirle che abbiamo 30 mezzi in strada, che servono da quasi tre anni in full electric, totalmente elettrici, sono di un'altra azienda produttrice al mondo, Italo-Polanca, ricordo bene, però per contro Fiorese, che appunto importa per la Yutong, mi pare in Italia, dice che ce ne sono 100 che girano in Italia di questi E12 Yutong, quello coinvolto nell'incidente, e quindi non rileva problematiche al di là del dramma verificato. Ilaria, che cosa vuoi aggiungere tu? Io vorrei aggiungere che quanto ha detto l'assessore Boraso a proposito di quella ruota, è vero perché noi abbiamo anche altre fotografie, immagini, in cui questa ruota si vede e non ha alcun danno, non c'è alcun danno proprio al pneumatico, tanto meno al cerchio, cioè la ruota sembra non aver subito alcun danno, quindi proprio a confermare quanto ha detto l'assessore e anche noi appunto l'abbiamo visto, l'abbiamo appurato e l'avevamo detto, però io voglio chiedere un'altra cosa all'assessore Boraso, allora la questione dello sterzo, lei ci ha detto sì abbiamo visto, ovviamente lasceremo giudicare a chi di competenza, lo sappiamo, lo stiamo facendo, ma lei quando ha visto queste immagini e sentito questa testimonianza, che cosa ha pensato realmente della questione? No, ribadisco quello che ho già detto oggi e questa sera, che è fondamentale la perizia su questi metri, le testimonianze e le foto non sono un elemento probante, ma sono un elemento d'indizio che ci imposta... Spero che abbiamo perso, abbiamo perso l'assessore, vediamo se riesce... Prego, prego, l'assessore l'abbiamo persa per qualche istante. È assoluto rigore e attenzione su questa perizia, lo è importante che in quella del Garderey, per carità è giusto che la... come ha detto il dottor Cherchi, stanno sondando tutte le possibili, ma dopo quello che abbiamo sentito, dopo quello che abbiamo visto, io auspico che presto vengano nominati dei periti specifici, competenti, a garanzia di tutti su questi mezzi. È fondamentale, perché non possiamo lasciare indietro nessun aspetto da punto di vista tecnico, perché la gente ti ferma... io tutti i giorni, da qualsiasi parte io mi giri, direttore, lo dico anche per di là, ci chiedono, diteci cosa è successo, la gente vuole sapere... ecco, per esempio avete visto come si è sfondato queste immagini dello sfondamento della pavimentazione, credo che sia determinante per aver sbilanciato il mezzo che poi se ne è andato tutto quanto a destra ed è precipitato. Ve lo vedete qui come si è sfondato il... purtroppo un fondo di banchina, che non è un caso che noi stiamo rifacendo dall'inizio, rifacendo tutta la banchina, perché per mettere il guardrail nuovo a norma è necessario rifare tutto l'intervento in cemento armato tale da poter consentire di sostenere i nuovi tipi di guardrail. Avete visto come quella soletta esistente è ceduta di fronte alle circa 14 tonnellate, la ruota come è andata lì ha poi ceduto. Lo vedete che ci sono gli sprofondamenti prima del punto di caduta. L'opposizione, il Consiglio Comunale ha chiesto una commissione d'inchiesta straordinaria sulla sicurezza del trasporto pubblico. Cosa dice lei? Ma qui qualcuno confonde le attività della Procura, le attività del Consiglio Comunale. Io forse qualcuno pensa di essere al Parlamento, al Senato. Io sinceramente lascerei in maniera attenta alla Procura e serena di svolgere il proprio lavoro. Ed è giusto. Per carità, ognuno è libero di fare le valutazioni. Credo che voi di Medio Nord-Est avete fatto delle valutazioni, ovviamente che non sono delle sentenze, ma delle valutazioni. Mi piacerebbe sentire delle opinioni che fanno parte della democrazia. Ma cominciare a insediare commissioni con dei procedimenti penali in corso, io veramente qualcuno pensa di essere al Senato o alla Camera dei Deputati. Confonde i ruoli e le posizioni. Lasciamo la Procura continuare quel lavoro serio che hanno iniziato, ma veramente con una capacità e una serietà. Io sono solo per ringraziare il dottor Cherchi, perché è giusto avere, non so quei tempi tecnici necessari, ma conoscere la verità. Noi non ci tiriamo indietro, direttore. Ilaria, ultima domanda. A netto di quello che abbiamo detto finora, ovviamente in attesa di quelle che sono tutte le perizie che stiamo aspettando, ci vorranno alcune settimane, lo sappiamo. Mi sembra di capire da quello che lei ha detto, che lei pensa, e sto chiedendo la sua opinione, anche da assessore e da profondo conoscitore di quello che è il territorio, e poi ovviamente il territorio di Mestre, lei è convinto che la chiave di tutto quello che è accaduto la sera del 3 ottobre sia nel mezzo, quindi in un guasto tecnico? Questa è una mia opinione. Da mio punto di vista, credo che una buona parte della verità arriverà dalle analisi attente di questi mezzi, sia del primo, anche forse del secondo. Nulla di più può capitare quando si trova di fronte a un'innovazione tecnologica. Credo che a livello mondiale molte Marche, non voglio far nomi, hanno poi ritirato i mezzi per sottoporle a revisioni attente, decine di migliaia di mezzi. Io credo che possa capitare. Dalle valutazioni che emergono, però non siamo tecnici, io sostengo questa opinione. Sarà la procura nel seguito delle valutazioni, attendiamo attentamente, perché la gente chiede di saper la verità, questo è vero. Pensiamo ai 21 persone defunte, a tutti i feriti, tra l'altro siamo fra poco nel giorno dei defunti. Quasi un mese. Ah sì, certo, tra l'altro. Una grande preghiera per tutte queste famiglie. Io qualche notte, ogni tanto mi sveglio improvvisamente, perché lo dico e lo ribadisco. Quello che ho visto quella notte non auguro nessuno. Ed è quasi un mese dall'incidente. Allora, le chiedo solo davvero l'ultimo flash. Abbiamo detto che già 12 dei 18 sono tornati in circolazione per quanto riguarda il trasporto dei mezzi. Lì l'analisi avete fatta fare voi, giusto? Di questi mezzi approfondita, compreso il tema dello sterzo, compreso l'impianto frenante, immagino, e se di quell'altro mezzo, quello incidentato, la farete voi, no? No, credo che ci sia la Procura della Repubblica che ha incaricato un altro PM per vederci chiaro. No, di quello di Via Carducci, dicevo. Quello di Via Carducci. Eh no, ribadisco, guardi che c'è un altro pubblico ministero che si sta occupando anche di quel mezzo. E la Polizia Giudiziaria se ne sta occupando da un punto di vista tecnico. Evidente, noi ci siamo occupati degli altri 18. I primi 12 hanno avuto esito positivo, però ricordo che sono revisioni sulla base delle prescrizioni dettate dalla motorizzazione civile. In questo Paese, perché forse qualcuno se lo dimentica, la circolazione dei mezzi come questi autobus e tutti gli altri autobus avvengono su prescrizioni della motorizzazione civile. Noi controlliamo che tutti i documenti siano in ordine. I primi 12 mezzi hanno ripetuto la revisione grazie a questa società prescritta dalla motorizzazione civile. Oggi hanno consigliato la documentazione degli ultimi 6. Entro due giorni, penso che se dei documenti sono corretti, verranno rimessi in rete anche gli ultimi 6 mezzi. Assessore, risulta anche a lei che in realtà i 15 feriti lievi non fossero tutti lievi? Sì, mi dicono che ci sia qualcuno che non sia proprio lieve, però poi io auguro pronta guarigione. Noi parlo di via Carducci sempre, no? Sì, di via Carducci, io auguro pronta guarigione. Ovviamente, però, ho capito che poi scattano le denunce e tutto ciò che ne consegue di fronte all'incidente così serio. Non c'è dubbio. Allora, va bene, almeno ho il tempo di salutarlo. Ecco, assessore, grazie. Abbiamo perso la linea, ma volevo ringraziarla. Grazie a Renato Boraso e grazie, come sempre, a Ilaria Marchiori per il prezioso lavoro. Grazie a tutti. Buonasera. E soprattutto a voi che ci avete seguito. Questi sono gli aggiornamenti di quel che sin qui sappiamo della vicenda. Ma continueremo a seguirla, soprattutto con le anticipazioni che abbiamo spesso raccolto dalla redazione di Venezia e dall'Aria Marchiori, in particolar modo. Grazie, buonanotte da Ring. Grazie a tutti.